The Adam Project, recensione in un minuto. Sean Levy, il regista specializzato in film per tutta la famiglia, ha confezionato una pellicola piena di azione e divertimento, dove però sono i sentimenti a regnare. The Adam Project è forse un po' meno originale di Free Guy, altro film che ha visto la collaborazione tra Reynolds e Levy, ma la poca originalità non è un difetto se ciò che racconti funziona. E The Adam Project è un film che funziona. Ottimo il cast ovviamente, Ryan Reynolds la fa da padrone, ma anche Walker Scoble se l'è cavata. Se dal punto di vista estetico non c'entra una fava con Reynolds, appena apre la bocca tu dici ok, questo è Ryan Reynolds bambino. Apprezzabilissimi anche Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Jennifer Garner, attori poco presenti nella pellicola ma che sono il perne motivo dell'intera vicenda. Ed è questo The Adam Project, un film che prenda piene mani dal cinema di fantascienza di Spielberg e di Zemeckis, c'è anche tanto 30 anni in un secondo, ed è un film che riesce ad emozionare in più punti. Quindi per me è promosso, lo trovate facilmente su Netflix.